Gli orologi della Rocca sono completi di garanzia, documento di proprietà con la relativa dichiarazione di autenticità, firmata dai nostri periti esperti regolarmente iscritti al ruolo della Camera di Commercio e del Tribunale. Gli orologi sono garantiti 12 mesi con il vantaggio di poter estendere la garanzia fino a 5 anni. La nostra garanzia, oltre a testimoniare il servizio di qualità, lega tutte le informazioni dell'acquirente ai dati dell'orologio e al valore di acquisto, diventando così un documento dettagliato, valido anche ai fini assicurativi, efficace promemoria per la clientela puntualmente avvisata alla scadenza. Questo indispensabile strumento di certificazione rafforza il concetto dell'acquisto sicuro nel mercato degli orologi usati e vintage.